Mintonia Savuccu è la vedova scalza, una donna che sbalza fuori da una terra violenta, da una guerra che stenta a cessare. Mintonia riesce a passare nella cruna del lago grazie allo spago della scrittura, di una cultura ereditate da zio invece, che le trasmette l'amore per la pece dell'alfabeto. Le parole devono vivere e correre in libertà. Ogni parola ha un feto, una creatura, ma la vita barbaricina ai primi del Novecento più che una gioia è uno stento. Nonostante tutto, lei si innamora di un fottivento, micheddu, bandito e esuberante, e violento con tutti, tranne che con questa donna primitiva e moderna. Mintonia lo ama, lo brama, gli squaderna il cuore, è l'amore del sangue e del ventre, la frore dei corpi, che si amano sospesi tra la terra e il cielo. Mintonia è lo stelo di un fiore raccolto, ma che presto appassisce. L'amore di micheddu non lenisce, ma apre ferite. Il suo corpo è potente come la dinamite, ma non può essere trattenuto dall'abbraccio di una sola donna. Così ogni gonna è un trofeo, un bracere. E quando micheddu, ingravida dopo Mintonia, persino la moglie del brigadiere, quest'ultimo, si mette a dargli una caccia spietata. E Mintonia si trova davanti a casa la carcassa squartata del suo grande amore, il furore della vendetta del brigadiere ancora impresso sul corpo. A quei tempi l'onore era potente come un veleno e Mintonia, in un baleno, decide di vendicare la morte del suo eroe personale, di ricacciare il male al mittente, a chi glielo aveva originato. In una sera di settembre, il fato si volse a compimento. Mintonia uscì di casa, si tolse le scarpe per correre scalza come quando era bambina, sotto il picchiettio di una pioggerella birichina e pollinosa. Come una sposa corre all'altare, lei correva a vendicare il suo gioiello. Suonò il campanello e il brigadiere si accese come una sigaretta. Non immaginava che la vendetta fosse alle porte. Così, per l'ultima volta, le fece una corte spietata fino a quando Mintonia lo trascinò nel letto come una baccante indiavolata che vuole spolpare le carni del maschio durante l'amplesso. Ma quando ha letto negli occhi il riflesso del piacere sublime dei godimenti, con due fendenti al collo, ha riportato giustizia nella sua vita e in quelle del suo amore. Poi ha fuggito in Argentina per impedire che suo figlio crescesse nel dolore di questa mattanza familiare, portandosi dentro il seme di un'altra creatura concepita in quella sera di sventura e di morte. Mintonia ha sfidato la sorte e l'ha vinta una volta per tutte. Anche le vite brutte possono trovare riscatto, stringere un patto con il futuro. Mintonia lo ha fatto allevando i suoi due figli, uno di Micheddu e uno del brigadiere, senza alcun muro velato di rancore. Mintonia ha scelto l'amore dopo aver combattuto una guerra, ha scelto la terra di Argentina come la nuova vetrina dei suoi sogni e delle sue visioni. Mintonia Savucco, la mia immensa maestra di emozioni. Mintonia Savucco,